La città di Siena con la sua università coordina un network di ricerca internazionale composto da decine di università e istituti di ricerca. Qual è stata la vostra ricetta del successo? Intraprendenza, capacità organizzativa o offerta scientifica? Tutte e tre. Più c'è anche il fatto che Siena ha un'oggettiva tradizione in questi argomenti, nel senso che noi abbiamo avuto dei colleghi che già negli anni 80, quindi 30 anni fa, si occupavano di questi argomenti, il che vuol dire che poi hanno creato una scuola, abbiamo avuto dei corsi di studio su questo, ricerca, pensiamo che la cosiddetta ecological economics, i nostri, sono stati fra quelli che addirittura l'hanno fondata, addirittura il professor Tiez ha contribuito a definire il concetto stesso di sustainable development, quindi c'è sia la tradizione sia anche la presente forza e interesse sull'argomento dell'Ateneo. E poi sottolineerei anche il contesto, nel senso che Siena è un luogo dove la sostenibilità sociale si vede camminando per la strada, la sostenibilità ambientale andando in campagna, in giro si vede cosa vuol dire sostenibilità. Tutta una serie di elementi fanno sì che siamo molto orgogliosi di questo. This is an initiative of Secretary General Ban Ki-moon, when he recognized very clearly that the world of science and technology, the universities, leading companies, need to be brought into the center of problem solving, on these complicated challenges of water, energy, design of cities, and other problems of sustainable development. Sometimes the governments are negotiating or the diplomats are negotiating, but the complex scientific and technological insights aren't there. So the Secretary General said let's bring a worldwide network of universities and leading companies together to help problem solving on these issues. Il MIUR ha un ruolo sul progetto MedSolution coordinato dall'Università di Siena? Sì, ha un ruolo di ente sostenitore, quindi abbiamo sostenuto lo start-up di questo progetto e mi fa molto piacere vedere che va avanti. Più volte lei ha dichiarato l'urgenza di creare un piano nazionale per la ricerca. Ritiene che sia arrivato davvero il momento e in particolare in che cosa consiste? Deve essere fatto, quindi siamo anche in ritardo e stiamo partendo proprio in questi giorni con questo piano nazionale che sarà un piano molto sintetico e molto breve, ma riguarda la grande integrazione del sistema della ricerca pubblica italiano e riguarda le linee strategiche lungo le quali vogliamo sviluppare le nostre competenze e le nostre aree di ricerca.